Non ci convinceranno a mangiare il pasticcio putrefatto di carne umana che ci offrono. Così si esprimevano nel XVI gli artisti del Dada, scagliandosi in maniera violenta contro la prima guerra mondiale, contro il disastro umano della prima guerra mondiale. E così, mentre divampano le fiamme del primo conflitto mondiale, un gruppo di artisti poco più che ventenni si riunisce nel febbraio del XVI a Zurigo, nel cabaret Voltaire aperto da Hugo Ball. Stiamo parlando qui del poeta e letterato tedesco Hugo Ball, del poeta rumeno Tristan Zara e del scultore e pittore assaziano Hans Arp e poi anche della moglie Sofita Oberarp. Nasce il Dada, quel movimento che si proponeva di distruggere qualsiasi cosa fosse riconducibile alla grande cultura e all'arte. Tutto ciò che aveva portato la grande civiltà occidentale al disastro della prima guerra mondiale. Perché Dada? È difficile dare una interpretazione univoca. Nel manifesto del XVIII, fatto da Tristan Zara, si legge che Dada non significa niente. Ed effettivamente è vero. Dada potrebbe rimandare alle prime parole dette da un bambino, oppure rimandare a sì in russo. Insomma, oppure semplicemente perché suonava bene, come alcuni artisti del movimento dicono. Dada, dunque, è gioco e non senso. È paradosso. È libertà di essere Dada e non esserlo al contempo. È arte e negazione dell'arte. E allora perché in un gruppo così rivoluzionario, che voleva negare qualsiasi regola, perché fare un manifesto? Ma sicuramente per ironizzare sul manifesto futurista. Anzi, sui tantissimi manifesti del futurismo. Ne scrivono più di 50, della scultura, della pittura, eccetera, eccetera. E quindi questo manifesto di Zara in realtà non ha assolutamente un valore programmatico. Ed è giocato su una serie di frasi che esprimono i concetti anche contraddittori. Tutto viene coinvolto da questa follia dada, per cui anche la letteratura viene distrutta, la parola. E allora si vedono queste composizioni dettate assolutamente dal caso. Questa, per esempio, di Haussmann, oppure il caravane di Hugo Ball, che qui vedete mentre recita questa poesia al Cabaret Voltaire. Tristan Zara vi dà proprio le istruzioni per fare una poesia dada e ve le dà come si darebbe una ricetta culinaria. Quindi con questa azione elimina qualsiasi enfasi data sul fare poetico, riconducendolo ai piani materiali dell'esistenza quotidiana. Cosa dice Tristan Zara? Dice La ricetta Tristan Zara, vi ripeto, scardina tutta l'enfasi e l'importanza data al fare poetico. Ma sempre perché tutta la grande cultura e ricchezza della cultura occidentale, ad alto non aveva portato, chiede una guerra. E se non ci sono regole, come faccio a creare qualcosa di artistico? E' quello che fa Hans Harp con le sue opere, che sperimentano diversi linguaggi, dalla pittura al collage, all'assemblage, e sperimenta la poetica del caso. Per cui realizza opere in cui dispone foglietti di carta, li fa cadere letteralmente sulla tela, e la posizione che assumono diventa quella definitiva, come le foglie che cadono dagli alberi, tanto amate dall'artista. Oppure in quest'opera, in quest'assemblaggio, in quest'opera formata da pezzi di diversi materiali, assemblati insieme, che lui intitola Se il primo titolo è un omaggio al teorico del gruppo, il sottotitolo è tipicamente d'ade, è un titolo d'ade, è un titolo ironico e provocatorio, che cerca di dissacrare la grande storia dell'arte. Perché il termine deposizione fa sì riferimento sempre all'immagine dell'albero da cui cadono le foglie e si depositano in modo casuale sulla terra, ma fa riferimento alle grandi deposizioni a soggetto religioso. Un altro gruppo importante di artisti dada è quello che si ritrova nella città di Berlino. In Germania il dadaismo assume accentuate connotazioni politiche, Perché vive un periodo particolare la Germania, siamo durante la Repubblica di Weimar, la Germania esce distrutta dal conflitto mondiale e la società è attraversata dai grandi conflitti sociali e da una profonda crisi economica. Per cui le opere dada tedesche sono connotate da una forte critica sociale. Appartengono al gruppo di Berlino, qui vedete una delle prime mostre dada a Berlino, appartengono al gruppo Raoul Hussmann, Anna Hawke, John Hartfield e George Grosz. Quest'ultimo, tra le tante opere, dipinge Ricordati dello zio Auguste, lo sfortunato inventore. Dipinge non è corretto perché in realtà è sempre un collage, pittura e collage insieme. Allora, che cos'è? Questo sfortunato zio Auguste sembra appena uscito da un tavolo operatorio, dove gli sono stati innestati elementi non suoi. Per cui vedete che la bocca non gli appartiene, vedete che il mento è molto più grande, vedete un occhio montato al contrario, un naso dalle parvenze meccaniche, sembra quasi un cavatappi, e poi sulla testa si è inserita una manopola chiusa da due bottoni, che delinea un punto interrogativo al contrario. L'immagine di quest'uomo deturpato, riassemblato insieme in queste vesti mostruose, e il titolo stesso Ricordati dello zio Auguste, sembrano alludere alle recenti esperienze della grande guerra, da cui il personaggio ha fatto ritorno letteralmente a pezzi, distrutto. È l'immagine dei reduci di guerra, che tornano turbati, profondamente sconvolti, nello spirito o anche nel corpo, che tornavano senza il mento, senza un pezzo di faccia. Un'immagine efficace, profonda, che ben esprime il sentire dell'epoca. Sempre al gruppo di Berlino appartiene Raoul Hausmann, che fu compagno di Anna Hock, e che si definiva tecnico del montaggio e lavora tantissimo sul fotomontaggio, sulla rielaborazione di immagini fotografiche o tratte da riviste. Tra le sue opere è famoso questo ritratto di Tratlin, in cui ritrae l'esponente del costruttivismo russo, prende un estratto di una foto, è in giacca e cravatta, con tanto di colletto, è quello della Terza Internazionale, quindi uno degli autori che più hanno partecipato anche alla rivoluzione russa, la rivoluzione sovietica, e dalla testa però di Tratlin saltano fuori una sorta di macchinario futurista, benenistico, molto complesso, che rimanda alla mente ingegneristica, era un ingegnere, vi ricordo, Tratlin, dalla mente ingegneristica e razionale di Tratlin, che avrebbe potuto condurre la Germania fuori dalla sua crisi, crisi tedesca che viene esemplificata grazie all'immagine in secondo piano dell'uomo con le tasche bucate. È l'immagine della Germania povera e di un artista come Haussmann, che è comunista, che sperava nel comunismo per poter risolvere i problemi della Germania dell'epoca. Poi c'è John Hartfield, inglesizzazione di Helmut Hartfield, che si scaglia ferocemente contro il nazismo attraverso i suoi fotomontaggi, come questo Adolfo il superuomo, in cui c'è Hitler, mentre sta pronunciando il classico discorso di propaganda, con i suoi tuoni forti, la sua voce gridata, però si guarda attraverso questo piccolo uomo e in una sorta di radiografia si vede che la gola non è altro che una somma di monete d'oro, quindi è tutto l'oro che i borghesi, che i ricchi capitalisti hanno versato nelle tasche del partito affinché salisse al potere. Il stesso denaro che vediamo in quest'altra opera, dove il piccolo, sempre piccolo, Hitler viene finanziato da questo grande uomo primo di volto, il grande capitalista, il grande industriale, oppure in quest'opera realizzata per la guerra civile, spagnola, dal titolo emblematico questa è la salvezza che loro portano e si vedono gli aerei delle truppe tedesche solcare i cieli e formare un inquietante scheleto di una mano. Poi si vedono i morti in primo piano e le immagini dei bombardamenti di Guernica sulla destra. Dian Nover è un altro artista molto originale dell'avanguardia tedesca che è Kurt Schwitzer's, in particolare noto per il suo Merzebau, una delle prime opere ambientali, quello che poi verrà definito Environment. Non si può parlare né di scultura, né di architettura, né di arredamento di interni, come nel caso delle opere della ricostruzione futurista dell'universo fatte da Balla e da De Pero. Cosa fa? All'inizio degli anni venti inizia ad occupare tutto il suo studio con una colonna centrale che poi diventeranno tre, costruisce aggregando diversi pezzi sia architettonici sia pezzi che fanno riferimento alla sua vita, pezzi che hanno per lui dei richiami affettivi e simbolici. È una sorta di autoritratto costruito. Quest'opera verrà poi distrutta e se va alla sua casa durante il conflitto mondiale e verrà in parte ricostruita nel museo di Hannover. Il Merzebau è una sorta di grandiosa rappresentazione della mente dell'autore, della sua struttura che si costruisce col tempo. Quindi l'opera si evolve, si modifica e prosegue nel tempo così come la mente dell'uomo cambia nel tempo ogni volta aggiungendo ricordi, emozioni, sensazioni. L'altro grande polo d'Adda è quello di New York che si riunisce attorno alla piccola galleria 291 diretta dal pioniere della fotografia Alfred Stiglitz, nonché grande promotore artistico e attorno alla quale si riuniscono grandi artisti anche europei come Marcel Duchamp e l'amico e l'amico Man Ray. Man Ray realizza sia ready-made appresi da Duchamp come questo cadeau con il quale ironizza sull'usanza borghese di dare un regalino un piccolo cadeau quando si va a fare visita per cui questo regalo è assolutamente inutilizzabile avendo dei chiodi sulla superficie del ferro da stiro ma soprattutto Man Ray è noto per le sue sperimentazioni nel campo del fotomontaggio e della fotografia come questi radiogrammi in cui applica direttamente gli oggetti sulla pellicola fotografica e ne scaturiscono immagini quasi astratte fortemente evocative. Famosa è anche l'opera Violon d'Hengre del 1924 è un fotomontaggio in cui ritrae la modella Kiki in una posa simile a quella della bagnante di Valpison di Engre crea un parallelismo tra la figura tra il nudo femminile e la forma del violino inserendo nella fotografia due F Kiki poi è vestita come le donne di Engre per cui porta un turbante cinquecentesco come nelle opere di Engre e ha una posa simile a quella della bagnante di Valpison attraverso questa analogia con le opere di Engre suggerita palesemente dal titolo Man Ray vuole ironizzare sul nudo femminile nella storia dell'arte a cui spesso vengono attribuiti grandi significati estetici ma che spesso erano frutto solo di committenti che volevano vedere delle belle donne in abiti succinti grazie alla prossima